Turno di sosta per il campionato di Serie D, ma con tre recuperi che si consumeranno in questo fine settimana per il Girone F. Oggi Campobasso Recanatese, rinviata per la concomitanza con le elezioni, facoltà lasciata alle società qualora vogliono esercitare il diritto di voto senza problemi legati a trasferte e quant'altro. Domani Castelfilardo Avezzano e San Marino Nerostellati, rinviate per maltempo. La sosta è dovuta alla partecipazione della rappresentativa di Serie D al torneo di Viareggio. La selezione guidata da Augusto Gentilini debutterà lunedì contro il Livorno. Tra i convocati ci sono Riccardo della Quercia, del Pineto, Yusuf Baba del Francavilla e Michael Deramo dell'Avezzano. Quest'ultimo dunque non sarà presente al match di domani allo stadio Galileo Mancini. Quello tra Castelfidardo e Avezzano è un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. I marsicani hanno un punto in più e rischiano di essere sorpassati in caso di sconfitta. Il Castelfidardo guida la classifica parziale del girone di ritorno con 20 punti collezionati sui potenziali 24. Il tecnico Giampaolo potrebbe rilanciare dal primo minuto Pollino al posto di Deramo. Recupera peraltro un pezzo da 90, quale Federico Cerone, anche se potrebbe partire inizialmente dalla panchina con bisegna tra i primi 11. All'Olimpico di Serravalle, partita che sembra avere pronostico scontato, quella tra San Marino e Nerostellati. Per la squadra di Ricorcia si tratta di onorare l'impegno, come sarà da qui alla fine del campionato, visto che solo la matematica separa i pratolani dalla retrocessione. Domenica scorsa i Nerostellati hanno dato filo da torcere alla vastese e proveranno a farlo anche col San Marino, che sarà privo dello squalificato di Maio, ma che con i tre punti si avvicinerebbe alla zona playoff, scavalcando l'Aquila e distanziando il Francavilla. Dopo le tre partite di questo weekend resterà da recuperare una sola gara, quella tra Fabriano Cerreto e Pineto, data fissata al prossimo 21 marzo.